Questo che stiamo per presentarvi è lo sceneggiato filmico Vite da sprecare, una storia drammatica e che riguarda la parte più oscura e tetra della nostra Sicilia. Siamo nel 1976 e ci viene raccontata quella che è passata la storia come la strage di Alcamo Marina, in cui furono barbaramente assassinati due giovani carabinieri, una strage senza colpevoli ancora oggi avvolta nelle nebbie di uno dei tanti misteri di questo stato e delle sue oscure trame. Abbiamo intervistato il regista Giovanni Calvaruso. Giovanni non ci conoscevamo, stiamo arrivando qui dell'interlocuzione prima ancora di accendere le telecamere. Grazie davvero di cuore e a nome personale dell'emittente che rappresento. Ha preso in esame una pagina oscura, fermarci a dire della nostra amata città è molto riduttiva. E una pagina oscura, Giovanni, che va oltre i confini quelli che sono nazionali. Hai avuto un bel coraggio? Sono di Alcamo, sono riusciuto qua sul territorio ed è quindi una storia che conosco da sempre. Poi negli anni ho approfondito l'argomento, mi sono informato, documentato, ho cercato e ottenuto la conoscenza diretta con la famiglia di Mandalà, con Giuseppe Culotta, Letano Sant'Angelo e Denzo Ferrantelli e quindi approfondendo l'argomento ho notato che c'erano comunque molti punti oscuri, molte parti della storia inquietanti. Di cose che erano già ben presenti fin dall'inizio della storia e delle indagini. Perché già se andiamo a vedere i giornali, gli articoli dell'epoca, già nella prima settimana delle indagini, subito dopo l'uccisione dei due giovanissimi carabinieri, c'era tutto, quindi è ancora più sorprendente che ci siano voluti quasi 40 anni per arrivare quantomeno a scagionare, a capire, a decretare l'innocenza di queste persone. Io non sono d'accordo con la sua procedura, facciamo un interrogatorio normale. Un percorso di indagini volutamente scelto di forme da quella che era la pista sulla quale intervenire per avere un po' di chiarezza, è questo? Sicuramente c'è stata fretta, fretta di consegnare all'opinione pubblica, alla stampa, ai media in generale, dei colpevoli, veri, presunti o falsi che fossero. E consegnare dei colpevoli in modo tale da mettere, però sicuramente secondo me non è solo, o comunque non è colpa dei carabinieri che hanno svolto le indagini. Secondo me parliamo comunque di persone dello Stato, servitori dello Stato con l'S maiuscola. Se continuiamo in questo modo, rischiamo che questi inizi a tirare fuori i nomi di gente che non c'entrano nulla. Devi parlare, figlio di buttà. Alcamo dicevamo a telecamere spenta e attraverso questa narrazione viene fuori che se la provincia di Trapani per Antonio Masi viene detta la provincia dei misteri, Alcamo non è da meno. È un punto misterioso del globo. Che ne dici? Sì, 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 in passato è sempre stato un crocevia comunque di traffici molto strani, molto inquietanti che come dicevo prima hanno visto commissioni strane, anomale e ripeto molto inquietanti, quello sicuro. Ti vado a dire qualcosa ai ragazzi, al futuro, al presente e al futuro che andranno a guardare questo film, ma soprattutto ragazzi che vivono questo territorio e non solamente. Sono fiducioso, perché si parla sempre dei tempi che vanno a scatafascio, delle cose che peggiorano, della tecnologia che è una merda e ci porterà a chissà dove. Però sicuramente non la vedo così tragica, nel senso che io sono molto fiducioso, perché ne conosco parecchi, della cosiddetta nuova generazione, degli adolescenti, tutto il blocco quantomeno di 14, 15 anni, 20 anni, perché sono molto più intelligenti, molto più appassionati di quello che spesso si racconta, di quello che pensiamo. Ma quando mi chiedevo le persone che vorrete che ci sono, ah! Ci qua non mi bastano, ci! Ma ancora per fuori non mi bastano!